4. Strappa, porzioni di umanità La sventura aveva colpito quella casa. In quel tempo c'era un abisso tra i nobili e i servi della gleba, sui quali i primi avevano un diritto crudele che aveva reso vittima una persona e sventurate altre tre. Per l'intera giornata in quella famiglia non si pensò che al povero Pietro. Ben presto tutto il villaggio conobbe l'accaduto e se ne doleva presso Maria che ognuno cercava di consolare. Ma dopo qualche giorno ebbe luogo il processo in seguito al quale Pietro fu condannato a morte e nel villaggio e ai muri delle case si affisse l'annunzio della terribile sentenza. All'alba del giorno fatidico il conte Ruggero d'Aristarca fece chiamare Pietro che languiva in prigione in attesa di essere condotto al patibolo. Voleva parlargli. Pietro fu condotto alla sua presenza. Il conte era immerso in una poltrona e leggeva. Era raro che dei signori leggessero a quel tempo. Il conte Ruggero era un uomo singolare. Amava la letteratura e conosceva il tedesco, il latino e il greco. Ma tra i signori toscani era uno dei più tiranni. Arrogante con i simili, poco rispettoso con i superiori e senza timore di Dio. Aveva una barba bionda come i capelli e gli occhi verdi. Era un uomo di beltà. Quando si adirava, pareva una tigre affamata e i suoi occhi splendevano nel viso in fiamme. La barba e i capelli parevano fuoco sulla brace. Quando invece era calmo, sembrava l'uomo più mite della terra. Era uomo coraggioso e come si temeva e odiava, così non si poteva fare a meno di ammirarlo. Pietro l'osservava immobile. Pareva un bufalo pronto ad affrontare l'ira della tigre. Ma la tigre non era affamata. Il conte lo guardò e sorrisse. Nota 1 C'era un abisso tra i nobili e i servi della gleba. Per i materialisti ciò che dissoda l'abisso delle differenze sociali è solo il procedere della storia. Ma la storia di per sé non esiste. Esiste ciò che provoca la storia, cioè la coscienza collettiva degli incarnati in un determinato spazio-tempo che l'uomo conosce come periodo storico. Tale coscienza collettiva è chiamata dai maestri forma-coscienza. Sempre di più essa strappa porzioni di umanità al carcere duro della sofferenza. Nota 2 Era raro che dei signori leggessero a quel tempo. L'attuale uniformità culturale imposta dai media serve alla razza o scaglione di anime che è l'umanità per avviarsi a una comunità di pensiero e di risoluzioni dei problemi. All'uniformità attuale ognuno è giunto dai secoli precedenti in cui le molteplici incarnazioni lo hanno preparato all'attuale globalizzazione.